Ehi salve a tutti amici sono Sapriagold e benvenuti in questo nuovo episodio di Project Zomboid Dunque gente, sto registrando questo episodio un po' prima rispetto a quello che pensavo Questo perchè ho da fare, purtroppo ho da fare, cioè no purtroppo è normale che abbia da fare E quindi non sono riuscito ancora ad ascoltare il vostro feedback sugli ultimi episodi Spero non vi dispiaccia e cercherò di fare comunque qualcosa che mi possa mandare avanti oggi In modo tale da comunque riuscire a poi a leggere il vostro feedback sull'ultimo episodio Dunque per prima cosa di nuovo andiamo a vedere cosa dobbiamo fare oggi In modo tale da poter eventualmente farci un'idea del piano Sono molto tentato di fare 6 di carpenteria, tanto siamo a più di metà E volendo potremmo andare in giro per le case a smantellare di tutto E diciamo che questo è ciò che mi piacerebbe fare Poi prepararsi per l'inverno, preparare provviste, ci starebbe anche quello Magari sapete cosa? Dato che abbiamo dei semi e soprattutto sta piovendo Potremmo pensare di andare a piantare un po' Che ne pensate? Ci prendiamo anche gli innaffiatoi Ma si, guardate Usciamo Prendiamo il secchio Dato che comunque abbiamo anche la pioggia adesso Sfruttiamo al massimo Tutto ciò che possiamo Ci stiamo trovando sostanzialmente da dove ci siamo lasciati la scorsa volta Quindi non vi aspettate che sia cambiato tanto Benissimo Allora piove quindi vorrei evitare di stare qua fuori Per troppo tempo Devo rimuovere l'erba No? E' strano Mica devo usare un'accetta per quello Allora adesso che appunto sta piovendo Non c'è nemmeno bisogno di Aiuto come si dice di andare a innaffiare Perché appunto sta piovendo Quindi Posizioniamo qua il nebulizzatore Info generatore Le condizioni stanno scendendo Non è il massimo Voglio vedere se poi magari posso Posso ripararlo subito Potrei pensare di fare anche altri raccoglitori d'acqua Sì quasi quasi Guardate Vai prendiamo Vai costruiscine uno Fanne un altro almeno dai Ok E poi non possiamo farne più altri Se non erro Perché ci manca Beh sostanzialmente tutto Vediamo se posso riparare il generatore adesso eh Tanto fumiamo una sicchi Allora ripararlo così No però posso spegnerti Aggiusta Vai Vai Vediamo un po' Info generatore E la condizione è una manetta adesso Vai così Ah ma è facilissima sta cosa Bene Ma benissimo L'ultima cosa che voglio provare è Prendere L'accetta Perché qua ci sono dei sacchi della spazzatura Boh Beh aspettate Questo significa che posso farne ancora uno Allora Vai Bene 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 Così siamo Siamo messi bene Per l'acqua Dunque Accetta Prendi uno Vediamo se magari Adesso posso Posso rimuovere Rimuovi c'è spuglio Eh sì Serve l'accetta A saperlo Va bene Va bene Allora rametti Questi inizio a prenderli Perché ragazzi Mi servono Per Per il combustibile Mi servono davvero per il combustibile Mi giuro mi piacerebbe tantissimo Sfruttare questa nuova meccanica Quasi 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 lo faccio Allora Rametti Venite con me Così come i rami Li porto tutti di là Vicino alla La stufa Allora Aggiungi combustibile Rametti Tutti Aggiungi combustibile Ramo Tutti E abbiamo già nove ore di combustibile Così Non male Non male per niente Allora Sono tentato Sono tentato Di andare a fare Quella cosa che vi dico Che vi dicevo Testare un po' La La ricerca Perché è una meccanica Che ancora non ho Non ho provato E quasi quasi Potremmo pensare di farlo Prendo l'ombrello Prendo l'ombrello Ci crediato no Prendo l'ombrello Ah Che figata Va bene Dai andiamo Wow Va bene Ho capito Wow Quindi sostanzialmente Adesso funziona in questo modo Tu ti muovi Ok E prendi Ah Quando trovi le cose Prendi esperienza Pietra affilata Wow Quanta esperienza Che ho preso in un colpo solo Cosa mi hai trovato Un grillo Fantastico 21 XP Ma What Questo potrebbe essere L'episodio in cui testiamo Un po' di Un po' di meccaniche belle Ad esempio La butto lì La pesca Potremmo testare anche quello Vi devo dire Mi piace Non so come sarà Poi più avanti Il grind Cioè se davvero sarà difficile Però mi piace Raccogli bacche Uh Abbiamo fatto Wow Bello però Mi è piaciuto Mi piace sta meccanica Devo essere sincero Ed ecco qua il lago È qua a fianco Allora Passiamo per il lago Così cerco un attimo Di capire anche Qual è il posto migliore Volendo dove passare Poi torniamo a casa Prendiamo La canna da pesca E torniamo qua E testiamo La Merda Scusate Sono zombie Non me l'aspettavo Mi sembra strano Che ci siano degli zombie qua Sinceramente Ok Wow Ce n'è un altro L'ho sentito Va bene Allora Depositiamo le cose Che abbiamo trovato Sono un attimo Interessato Alle bacche Non lo so Io ne metto via Ok Vediamo Perché magari Sono velenose Non vorrei rischiare Ah un'altra cosa Che riguarda Anche il legno Di scarto Che sapete Si ottiene Smantellando Le cose Fallendo Lo smantellamento Questo è buono Per Eventualmente Combustibile Ci si fa Un ottimo Combustibile Allora Attrezzatura da pesca Prendi due Cana da pesca Prendi uno Lenza Prendi uno E rete da pesca Prendi uno Penso sia tutto Sostanzialmente Ok Ah prendo anche i vermi Che avevo di sotto Ecco questi si Riprendo Ok Allora Pugna primaria Pesca Posizionarete La pesca Vai Dove ti posso mettere Non qua Dove ti devo mettere Scusate eh La passo di qua Posizionarete La pesca Ok Dovevo averla Nell'inventario Allora Non mi dice niente Quindi immagino Che vada bene così Non lo so Allora Portiamo tutto di qua Anche i vermi E peschiamo Usa canna da pesca E grillo Va bene Sacco di raccolta Facciamo zaino grande Ok E c'è uno zombie Abbiamo preso Anche un pesce Ok Io riprendo a pescare Se per lei va bene Metti nello zaino E usa il verme Preso niente Abbiamo preso Un crappy Medio Ma guardate Un po' che culo Piccolo pesce gatto Ok Calzini Pesce persico Pesciolini Abbiamo preso Un fottio di roba Gente Avrei un fottio E una trota Quanto pare Voglio consumare Perlomeno Tutti i vermi Ok Basta Perché sono le 20 Abbiamo fatto Scorta di pesce Madonna ragazzi Abbiamo usato Un verme In tutto questo Ma ve ne rendete conto Aie Perfetto Allora Forse forse Dobbiamo Pulire Eccolo qua Taglia filetto Costruisci tutti Sette Wow Wow Abbiamo 14 filetti Di pesce Ve ne rendete conto Non ci credo Non riesco proprio A crederci E' stata un Una bella Una bella proficua Proprio Per la pesca Mi chiedo Dopo quanto Però si Non voglio dire Si ripopola il lago Ecco Mettiamola così Perché Immagino che Effettivamente Se sfruttiamo Troppo il lago Insomma Non vada bene Siamo esausti Per lo più Wow Non abbiamo fatto niente Vabbè Cazzo non abbiamo fatto niente Abbiamo fatto parecchio In realtà oggi Va bene Sono molto molto contento Sono davvero contento Anche perché adesso Abbiamo una fonte Di Di pesce Che è molto nutriente Stavo pensando Se magari Smantellare Questo Questo armadio E metterci qualcos'altro O ad esempio Spostare il letto Proviamo Come ultima cosa Della giornata Ok Ce l'abbiamo fatta Vediamo se posso Dormire No eh Non mi fa dormire Oh no Fermi Mi fa dormire Mi fa dormire Facciamolo allora Il povero personaggio No Non ci arriva Va bene Allora spostiamo questo Dormi Sì Ce la facciamo Wow Ho dormito con la Ho dormito con la porta aperta Oh Gente se ho rischiato Ma ho rischiato davvero tanto Vabbè Mi dispiace per il mio personaggio Perché oggi sarà un po' Un po' stanco Fa niente dai E ok ci siamo Allora non sono ancora contentissimo Con il posizionamento Di questo Attrezzo Quindi magari sapete cosa Lo prendo E lo porto di sotto A me non piace Quest'idea qua Quella di utilizzare La zona qua sotto Però Finché non ci sono problemi Quasi quasi Possiamo pensare di farlo Fatti vedere quanto abbiamo fatto Di abilità di pesca Abbiamo fatto poco Perché non avevamo letto il libro Sono un pollo Cerchiamo va Qua c'è sartoria Niente Pesca Pesca per principianti Vai Leggi Ok abbiamo letto Quindi pesca per principianti È andata Il prossimo che voglio leggere Invece è trappole per principianti Perché anche questo Penso che mi servirà Inoltre questo VHS Soprovvivenza All'esposizione È proprio di pesca Quindi Dai Dai assolutamente Il personaggio è molto Molto stanco Quindi magari Ci penso un attimo Prima di Di farlo uscire Magari lo faccio dormire Magari rimaniamo un attimo Qua in zona oggi Istinto di sopravvivenza No Spettacolo di cucina Ci ne abbiamo anche Il moltiplicatore Volendo Guardate Così quasi Leggiamo Oggi guardiamo un po' Di cose del genere Dai Eh eh Siamo saliti A livello 5 Di cucina E abbiamo fatto pesca Infatti Bene Coltivazione Invece Coltivazione Ah ah Bene Faccio leggere Trappole per principianti E basta Ok Sono le 19.50 Direi che Il signorino qua Può andare a dormire Ok Dormi Ed è un nuovo giorno Gente C'è una nebbia Della madonna Pure 16 gradi Quindi per ora Si sta ancora bene Ok Mangio qualcosa E colgo l'occasione Per andare a controllare La trappola Che ho lasciato La rete della pesca Controllo la trappola Ehi Piccolo pesce Esca Va bene E siamo arrivati Rimetto a posto Tutta la cosa Della pesca Tutte le cose Legate alla pesca E ci siamo Anzi sapete cosa Essendo che è un pesce Esca Teniamolo qua Vai Va bene così Dunque Mangiamo qualcosina E poi possiamo partire Mangiamo qualcosina Cioè Questo Mangia tutto Diamo un po' Info 83 kg Stabili Va bene Allora è importante Poi diversificare Anche la dieta Perché ragazzi Immaginatevi questo Adesso Tutto il cibo fresco È marcito Ok Non c'è niente da fare È marcito per forza Cosa succederà più avanti Andando avanti Avremo praticamente Solo quello che Non riusciamo a coltivare E Quello che riusciamo a pescare O Che riusciamo a Prendere con le trappole Ok Quindi è importante Che iniziamo a curare Anche quell'aspetto Delle cose Come appunto Ad esempio Trappole E Pesca Wow Non t'avevo mica visto Cos'è nella gamba Una forbice Fammi controllare Se Forbici Ok Iniziamo a smantellare Ok Dunque Questa casa È completamente Smantellata Abbiamo fatto Siamo a un totale Di 2600 Esperienza di carpenteria Sto pensando A quale altra casa andare Ma Penso che andrò A questa qua In fondo alla strada Fatto Carpenteria Livello 6 Via Scappiamo A casa Tipo Prima di subito Carpenteria Livello 6 Bene così Quanto sono contento Ci abbiamo messo Relativamente poco Quindi Mangiamo qualcosina E poi andiamo a dormire Nuovo giorno Yes Ok Allora Penso sia il tempo Di aggiornare un attimo Le nostre cose Qua Salire a 6 Carpenteria Fatto Collezionare tutti i libri Necessari Le videocassette Sì vabbè Diciamo che sono a posto Rinforzare le difese Della casa Costruire un perimetro Sicuro Costituire Fare scorta Di armi E munizioni Vediamo un po' Vediamo un po' Allora intanto Qua Togliamo perché Ci siamo già stati Non mi dispiacerebbe Prendermi ancora Un generatore Perché è necessario Averne uno di scorta E avere un po' Più di munizioni Il problema è che Per le munizioni Per le munizioni Un altro paio di maniche Decisamente Qua per la casa Siamo a posto Acqua ne abbiamo Cibo ne abbiamo Quindi Su quello non Non sono Per quello non sono Molto preoccupato Però 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 Livello 6 Costruisci Vediamo un po' Adesso mi sa che possiamo Fare tutto Anche le scale Anche le scale Uh e soprattutto La doppia porta Ma la facciamo subito Allora Forasse No Taglia ceppi Non forasse Benissimo 12 assi Ok devo andare A prendere i cardini Adesso Allora cardine Uno Ce ne dovrebbe essere Un altro qua Due Ultimo A posto Ed eccoci Possiamo costruire La doppia porta Adesso Quindi possiamo Anche finalmente Spostare il veicolo Allora Costruisci Doppia porta Vai Oh Oh yes Oh Yes Gente Ci siamo È costruita È costruita Siamo finalmente Un po' più protetti Adesso Benissimo Benissimo Ok Vediamo un po' La mappa E cerchiamo di capire Cos'è che possiamo fare Potremmo andare qua Prendere il generatore Generatore in più Vi ripeto Non fa mai male Mi sembra anche un buon modo In realtà Per chiudere l'episodio Direi di sì È stato un episodio Molto proficuo Non so Se effettivamente È stato un episodio Particolarmente bello Da seguire Perché ho Aia Perché ho dovuto fare Molto Molto lavoro Quello tedioso Ok E Diciamo che un po' Mi dispiace Però ragazzi Anche questo è lavoro C'è poco da fare Fatemi chiudere la porta Perché l'ultima cosa che voglio È che entrino Zomboni E non abbiamo finito Comunque Per quanto riguarda La La difesa Perché voglio fare ancora Un bel giro di difesa Davanti a quella porta Ok Ci dovremmo essere Praticamente Eccoci qua Infatti Allora Vediamo un po' Quanti zombie Abbiamo attirato Ma scusate Ma Oh Oh mio dio Ok Tempo di perderli Decisamente Portiamoli via Da qua Wow Se mi giro Cala il framerate Finiti i colpi Mio mio Oh 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 Perdiamoli di qua Va Allora Penso di averli persi Eh Più che penso Spero di averli persi Perché ragazzi Sta storia È Cioè Questa situazione È stata Per un attimo Ho avuto un po' Di panico Ecco Per un attimo Ho avuto un po' Di panico Ok Sapete cosa Controllo anche Quest'ultima casa Perché qualche episodio fa L'ho mancata Ok musica Ti puoi tranquillizzare Adesso Wow Meccanica per principianti Ok Ok in questa In questa casa C'era relativamente poco Fatemela marcare Ok Passiamo da qua dietro Dovremmo riuscire ad arrivare Dove eravamo prima Anche perché laggiù c'è la nostra macchina Quindi se vogliamo tornare indietro Per forza Li dobbiamo passare Ora che ci penso però Ho portato quell'orda Vicino alla chiesa Che è pericolosamente vicino a casa mia Quattro zombie Sì Li posso affrontare Soprattutto se li aggro uno alla volta Ah minchia Ho detto uno alla volta Vabbè Fa niente immagino Fa niente No adesso non di nuovo Colonna sonora della morte Per mezz'ora Mappa di rosul Ah questa roba qua ce l'ho lasciata io Eccolo Dov'è Prendi generatore vai Vai Metti nel rimorchio Ora prendiamo il veicolo E facciamo il giro Lungo Vai Entriamo E chiudiamo la porta Prendiamo il generatore E lo portiamo dentro E ci siamo Gente ci siamo Ed è fatta Il mio personaggio adesso è un po' stanco Ma questo Mi sembra più che Che normale Tutto sommato va bene Devo capire un attimo cosa fare con queste bacche E vedere se effettivamente riesco magari a riconoscerle Magari Poi per il prossimo episodio Vedrò di organizzare un'altra Nuova spedizione Anzi Sapete cosa Intanto Rimuovi elemento qua E Mettiamola così Aggiungi nota Provviste Varie Ok Ci mettiamo il provviste varie Perché non si sa mai cosa che ci potrebbe essere dentro Ora da qua volendo potremmo andare a controllare questa zona Perché ho visto prima non mi sembra troppo popolosa Ovviamente potrei anche sbagliarmi Detto questo qua abbiamo un'enorme sezione residenziale Ma sono sicuro che nel momento in cui ci arrivo con la macchina Qua Ciao La perdiamo Qua ci Ci prendono in pieno Quindi ora potrebbe esserci un'orda Circa qua Vediamo se c'è un Vediamo se c'è un simbolo che posso utilizzare Facciamo così Aggiungi nota Guarda Ok Questa zona qua è Penso un suicidio A questo punto Perché Pensateci Ok Qua è tutto residenziale Le strade sono piccole Abbiamo già visto quali orde ci sono Quindi è molto molto rischioso Devo cercare delle armi Devo decisamente cercare delle armi Però Aspettate Questa dovrebbe essere Rosewood E questa dovrebbe essere la stazione di polizia Potremmo pensare di andarci Sì Però per oggi direi che termino qua Vi ringrazio tutti tantissimo Per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate di questo episodio Mi raccomando lasciatemi un feedback Perché se tutto va bene Prossimo episodio Si parte per una spedizione In un'altra città Io vi ringrazio ancora per la visione Sono Gold E noi ci vediamo con i prossimi video Bye bye Ciao